Natale, giorno di festa Ma non per i disperati del Mediterraneo Il popolo dei senza voce La notizia di nuove morti si perde tra i lockdown natalizi e i lamenti di chi rimpiange le tavolate di un tempo Natale, giorno di festa Ma non per i disperati del Mediterraneo Il popolo dei senza voce, dei senza diritti Il popolo dei migranti La notizia si perde tra i lockdown natalizi e i lamenti di chi rimpiange le tavolate di un tempo La notizia dell'ennesima strage di migranti Sono almeno 20 le persone morte in un autraggio al largo della costa di Sfax In Tunisia lo ha reso noto ieri un ufficiale della Guardia Costriera Che ha recuperato 20 corpi di migranti che sognavano di raggiungere l'Italia e ha tratto in salvo 5 persone in condizioni gravi Le vittime sono per lo più originarie dell'Africa subsahariana, come ha confermato all'agenzia di PIA un portavoce della Guardia Costiera Sfax, Aliala Iari A bordo del barcone c'erano almeno 40 migranti e continuano le ricerche per i dispersi Lo scorso 16 dicembre, le squadre di soccorso della Mezzaluna Rossa Libica hanno recuperato i corpi di quattro bambini dopo il nautragio di una barca con a bordo 30 migranti all'arco delle coste libiche La notizia era stata data dal giornale del Libya Observer precisando che che i bambini erano egiziani e che i loro corpi sono stati portati via dalle coste di Arsha e Matrad vicino alla città di Al-Savia La stessa fonte aveva aggiunto di essere a conoscenza della scomparsa di due famiglie egiziane che vivono a Sabrata, tra cui una bambina di 5 anni e tre ragazzi tra i 7 e i 10 anni